Il riconoscimento Bandiera Blu per Porto Tolle rappresenta un passaggio molto importante per il Comune. Sì, un momento di orgoglio, la prima volta storicamente per la Bandiera Blu per tutte le spiagge e l'approdo di Porto Baricata per quanto riguarda quindi tutta il Comune, quindi sia le spiagge delle Conchiglie che Bocca 7. Un riconoscimento che premia un lavoro veramente importante in questi due anni per quanto riguarda l'amministrazione che ci ha sempre creduto, ci è arrivata dopo, ripeto, anche degli sforzi notevoli che abbiamo adottato dal piano di invenzione pubblica, il PEBA, a tutte quelle misure che non riguardano solo il mare strettamente, ci dà quella forza in più anche come territorio del Delta di presentarci per un turismo ecosostenibile e importante e a livello proprio italiano ed internazionale, quindi a mio avviso, ripeto, credo che sia un orgoglio per tutti i nostri cittadini. Quando avete iniziato il percorso per diventare Bandiera Blu? È una scelta che l'amministrazione comunale ha fatto l'anno scorso, è iniziata con un seminario tecnico a cui abbiamo partecipato a Roma a fine della stagione scorsa, quindi eravamo a settembre, dove ci hanno dato tutte le indicazioni con i requisiti che avremmo dovuto soddisfare per avere l'ottenimento del riconoscimento. FI Italia valuta per il riconoscimento della Bandiera Blu diversi aspetti che premiano lo sforzo che un'amministrazione comunale ha nell'ambiente in tutte le sue sfaccettature. L'amministrazione comunale di Portotolle ha attivato un percorso che ha visto l'approvazione del piano per il contenimento dell'inquinamento luminoso, ha approvato anche il piano per l'inquinamento elettromagnetico e sono stati regolamenti che sicuramente hanno aiutato al riconoscimento. Imminente è l'approvazione del PEBA, che è il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, che oltre alla qualità dell'aria e dell'acqua, sono elementi che aiutano al riconoscimento. Che altri progetti avete per il futuro di Portotolle? Il tassello dell'ottenimento della Bandiera Blu ci aiuta verso un progetto che è molto più ambizioso, che è quello insieme ai comuni che fanno parte del parco e della riserva della biosfera, riconosciuta dal MAB UNESCO, di arrivare ad essere come area del delta prima ecodestinazione slow d'Europa. E' un progetto che ha tutte le caratteristiche per essere portato a termine e che quindi sarà un impegno per l'amministrazione comunale e per tutta l'area. Grazie mille. Grazie a te.